I Carabinieri e le Arti, questo è il tema dell'edizione del 2016 dello storico calendario dell'arma presentato alla stampa alla Caserma Guccione, subito dopo quella avvenuta alla Scuola Ufficiali di Roma alla presenza del Ministro della Difesa Roberta Pinotti e del Comandante Generale dell'Arma Tuillo del VII. La rivisitazione delle opere d'arte di Monet, Modigliani, Van Gogh a scandire i 12 mesi dell'anno, ma soprattutto a rappresentare la storia che ha caratterizzato l'arma nei suoi 200 anni. testimonianza di un contributo che quotidianamente i Carabinieri assicurano nella tutela del patrimonio artistico nazionale. Una tiratura di un milione di copie di un calendario dove pittura e arma si intrecciano per avvicinare, sensibilizzare al mondo dell'arte. Da quest'anno inauguriamo un nuovo ciclo e abbiamo tratto ispirazione e chiesto aiuto ai nostri Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale attraverso i quali l'arma ha contattato, anzitutto, dei critici d'arte. Ha elaborato un progetto di rivisitazione di opere d'arte a partire dall'epoca della sua fondazione, quindi dalla prima metà dell'Ottocento fino ad oggi, cercando di trarre da quelle opere che maggior influenza, influsso hanno avuto sulla cultura e sullo scenario artistico italiano, tentando di rielaborare quelle opere in chiave di presenza dell'arma sul territorio e di rassicurazione sociale. L'operazione, il progetto è stato condiviso con chi detiene i diritti d'autore e con le scuole internazionali che curano la diffusione e la commercializzazione di queste immagini.